Alberto per la parte fiscale lussemburghese. Ok, di nuovo buon pomeriggio a tutti. Cercherò di essere breve in modo da cercare di recuperare il ritardo che abbiamo accumulato. Dunque, l'intervento di oggi vuole essere un po' un aggiornamento rispetto a quanto ho fatto l'anno scorso, quindi una panoramica sulla situazione internazionale a livello fiscale. Dunque, l'anno scorso abbiamo parlato di FATCA e abbiamo incominciato ad introdurre il concetto di CRS o Common Reporting Standard, che è lo standard di reportistica a livello di informazioni finanziarie costituito a livello OX e che sostanzialmente prende le basi da FATCA, la famosa normativa americana per quanto riguarda il reporting degli investimenti finanziari detenuti all'estero da investitori americani e che quindi vengono ripresi a livello OX e vogliono essere implementati a livello mondiale per quanto riguarda l'applicazione del CRS. Quindi, in sostanza, il CRS vuole applicare e allargare i principi FATCA e la reportistica FATCA a livello mondiale, come detto. Ad oggi abbiamo tutta una serie di paesi che hanno aderito all'iniziativa e si sono già impegnati ad applicare il CRS, alcuni dal 2016 e altri a partire dal 2017 con scambi di informazione che quindi saranno partire dal 2017 per i cosiddetti Early Adopters e a partire dal 2018 per gli altri. In globale ad oggi ne abbiamo circa 74 e come vedete sulla cartina del mondo che viene qui riportata ci sono alcuni grandi assenti tra i quali gli Stati Uniti d'America che non hanno ancora aderito all'iniziativa. Ci sono invece la Svizzera e il Liechtenstein. Questo succede perché a livello poi di implementazione locale il CRS, che è un'iniziativa OXE, ha bisogno di essere quindi tramutata in legge locale. Questo può avvenire o attraverso accordi bilaterali tra i diversi Stati, ovvero attraverso un'iniziativa, un accordo multilaterale. Cosa che è successa per esempio a livello europeo, dove tutti i paesi europei, salvo l'Austria, che è un regime speciale, si sono impegnati tra di loro a scambiare le informazioni sulla base del modello CRS a partire dal 2016 e quindi con primo scambio 2017. Il Lussemburgo naturalmente è presente e come dicevo l'Austria rappresenta un'eccezione e partirà con l'applicazione del reporting standard a partire dal 2018. Liechtenstein è anche un paese che adotterà il common reporting standard a partire dal 2016, quindi scambio 2017 ed altre negoziazioni sono in corso con San Marino, Andorra e Monaco che sono gli altri paesi che a livello di direttiva europea sul risparmio erano considerati come paesi terzi. A questo proposito la direttiva risparmio verrà abrogata e verrà sostituita di fatto dal CRS. L'abrogazione avverrà nel momento in cui il CRS verrà ad essere applicabile nei diversi Stati e quindi tendenzialmente a livello europeo 2016 salvo l'Austria 2017. Ultimo adempimento per quanto riguarda la direttiva europea evidentemente il reporting 2016 per i dati 2015 per i paesi che adotteranno poi ci resta a partire dal 2016. Altro argomento il BEPS, quindi iniziativa anche questa a livello Ocse, un'iniziativa che si divide in 15 diverse azioni, azioni che hanno come obiettivo diverse aree che sono tipiche e vengono poi sfruttate a livello di tax planning internazionale e che sono state identificate appunto dall'Ocse e sulle quali, a ciascuna delle quali è stato fidato un gruppo di lavoro che ha poi emesso quest'anno o nel 2014 dei report e delle raccomandazioni che nella maggior parte dei casi sono finali come vedete, mentre per quattro iniziative sono ancora da migliorare o comunque saranno soggette ad ammendamenti nel prossimo futuro. Alcune le vedete cerchiate perché sono poi delle iniziative, delle azioni che hanno un impatto pratico già diciamo palesato a Lussemburgo che nel breve periodo verranno ad impattare il Lussemburgo. Come abbiamo detto l'iniziativa BEPS si basa su delle azioni, delle azioni per le quali sono state emanate delle raccomandazioni. Il rischio è che le raccomandazioni restino poi tali per cui non vengano poi implementate a livello locale. Per evitare questo, o quantomeno per ridurne il rischio, due delle iniziative sono proprio focalizzate su questo punto. Una è la numero 15 che ha come obiettivo quello di porre in essere uno strumento multilaterale attraverso il quale per esempio i trattati contro le doppie imposizioni vengano ad essere modificati diciamo a gruppi in modo così che non ci siano i tempi o comunque i tempi per la modifica a livello nazionale vengano poi ridotti e si cerchi quindi di arrivare a un risultato di piena implementazione a livello mondiale nel più breve tempo possibile. L'altra iniziativa invece è la numero 11 che invece introduce degli indicatori e delle guide che dovranno poi essere usate a livello locale per poter misurare gli impatti ed eventualmente l'applicazione delle azioni e quindi delle raccomandazioni. non si parla ancora di liste brutti, buoni e cattivi per vedere chi andrà a monitorare chi effettivamente poi come è stato andrà ad applicare tutte o in parte le azioni però potenzialmente potrebbe essere anche questo un nuovo indicatore che potrebbe essere introdotto di cui abbagare. Dunque dicevamo alcune delle azioni hanno già un impatto reale a Lussemburgo una di queste per esempio è la modifica della direttiva madre figlia che a Lussemburgo come negli altri paesi europei dovrà essere poi implementata e recepita entro il 31 di dicembre 2015 con l'implementazione primo gennaio 2016. L'obiettivo di questa direttiva e della modifica è quello di andare a combattere l'utilizzo dei cosiddetti ibridi quindi doppia esenzione ovvero doppia deduzione di alcune partite di PNL e quindi questo è un primo esempio di BEPS applicato a Lussemburgo ed è già una cosa che sarà attiva tra qualche giorno. Un secondo esempio può essere l'IPBOX. L'IPBOX lussemburghese è sotto diciamo inchiesta a livello comunitario così come quello belga quello olandese e anche quello britannico ed è stato con la legge per il budget 2016 verrà abrogato a partire dal giugno 2016 quindi da quella data lì in poi non si sarà più accesso all'articolo 50 bis del codice fiscale lussemburghese e quindi al regime specifico per l'IPBOX che verrà molto probabilmente modificato, aggiornato e quindi reso compatibile con le iniziative BEPS e le raccomandazioni BEPS che individuano tra i vari punti focali il cosiddetto rapporto di connessione cioè la società e l'individuo che beneficia del regime deve anche avere sostenuto i costi per la realizzazione e la produzione di quell'IP che va a sfruttare il regime. Dunque un'altra azione che avrà molto probabilmente un impatto importante a livello lussemburghese e soprattutto mi riferisco alle assicurazioni e agli asset manager lussemburghese che sono attivi a livello comunitario per esempio via il regime di libera prestazione di servizi concerne il concetto di stabile organizzazione quindi il concetto che verrà ampliato nella sua definizione e quindi in molti casi quelle che oggi non sono attività costituenti stabili organizzazioni probabilmente da qui a breve andranno a creare questo concetto. Altra azione che avrà sicuramente un impatto forte è quella che concerne il disclosure sugli aggressive tax planning e che in ambito europeo è stata diciamo individuata e attuata o recepita attraverso la modifica della direttiva cosiddetta DAC 1 sulla cooperazione amministrativa con l'inserimento di uno scambio automatico dei ruling obbligatorio. Questo a partire dal 2017 con effetto retroattivo al 2012 per i ruling che sono stati emessi tra 2012 e 2013 e che sono ancora attivi al primo gennaio 2014. Le informazioni che verranno scambiate sono sostanzialmente consistono sostanzialmente nella comunicazione del nome quindi l'identificazione della società o dell'entità che beneficia di un ruling anticipativo quindi la persona, lo stato membro, l'attività, il tipo di ruling e gli ammontari che sono oggetto del ruling. Quale tipo di ruling verranno scambiati sono quelli preventivi trasfrontalieri quindi si prevede che dei ruling che abbiano un impatto solamente locale non verranno poi trasmessi e gli APA cioè i ruling sulla participation, addio, sul transfer pricing. Quando questo scambio verrà quindi abbiamo detto per i ruling già attivi a 12 2016 lo scambio avverrà immediatamente per i ruling invece emessi ottenuti in seguito a partire da gennaio 2017 lo scambio verrà semestralmente ogni tre mesi dalla metà dell'anno in cui sono stati poi sono stati accordati quindi diciamo entro marzo ovvero entro settembre ottobre di ciascun anno. Quindi anche questo ha un altro impatto BEPS che sicuramente diventerà attivo e tangibile a breve. Ultimo esempio, transfer pricing. Lo sappiamo dal gennaio 2015 le regole transfer pricing lussemburghese sono cambiate, sono state estese ovvero il concetto adesso è esteso a tutte le transazioni, tutte le tipologie di transazioni intra gruppo, non c'è più solo l'alimentazione alle transazioni finanziarie per cui è importantissimo avere una documentazione legale ed economico finanziaria a supporto delle transazioni intra gruppo, altrimenti il rischio è la possibilità da parte dell'amministrazione finanziaria lussemburghese di andare a contestare la remunerazione, ovvero la quantificazione della remunerazione delle transazioni. Con questo avrei finito, quindi il messaggio principale è BEPS, non è una cosa lontana, anzi è qui, sarà importantissimo andare a verificare, monitorare le varie situazioni che magari anche voi vivete nelle vostre organizzazioni e andare a fare uno screening di tutte le varie azioni e raccomandazioni che sono per adesso alcune solo su carta ma che domani saranno attive e quindi anticipare gli impatti e eventualmente andare a gestirli in modo anticipato. Grazie. Buonasera a tutti, sono molto lieto adesso di parlarvi della prossima riforma fiscale lussemburghese, quella del 2017, ovvero già qualche anticipazione per l'anno 2016. Ecco il programma, occorre per forza trattare gli argomenti in modo veloce e quindi fare un po' di selezione tramite le slides per accelerare. Cominciamo con il percorso della riforma fiscale, quindi alcuni di voi possono avere la domanda legittima, ma ci sarà una vera riforma fiscale in Lussemburgo nel 2017 o ci sarà una riforma fiscale piuttosto minore. Diciamo che un processo di riforma fiscale per forza non si fa in un giorno, si costruisce nel tempo, prende del tempo. Primo step, l'annuncio del nuovo governo, poi una scaletta con diversi steps e prima delle riflessioni sia del mercato sia anche molto interessante dall'amministrazione fiscale su certi punti tecnici di riduzione, di semplificazione, ma anche di compensazione a livello del budget dello Stato. Le attese del mercato vengono espresse a livello di proposte che sono state già fatte, che sono ancora al momento fatte alle autorità e ci sono delle risposte, delle prime risposte che vediamo arrivare. Vediamo anche l'anticipazione già evocata dal collega Alberto, anche di misure nell'ambito del budget 2016 e direi che adesso siamo veramente in una fase di arbitraggi, in sostanza dove c'è un po' di ping pong tra le proposte e le risposte. Un esempio abbastanza comico di questo, se posso dire, era l'attesa del mercato sul tasso globale di imposta sulle società di una montagna di 15-18% globalmente. Mentre la risposta del Ministero delle Finanze, che è stata anche emessa nella stampa ad un momento, era sì, va bene per 15%, ma soltanto sul componente imposta federale dello Stato lussemburghese, sapendo che si deve aggiungere un altro elemento di imposta comunale a quasi 7% e significa una risposta di 22% e invece di un'attesa di 15-18%. Quindi siamo un po' nell'ambito di quell'arbitraggio e direi che nei prossimi mesi si dovrebbe avere un po' di fine tuning. Ci sono invece diversi elementi di rilevanza anche da considerare nell'ambito della preparazione e della riforma, oltre alle evoluzioni fiscali che sono già state evocate dal collega Morpurgo, ci sono dei fattori molto interessanti da considerare, come l'equilibrio tra la parte contributiva delle persone fisiche da un lato e la parte contributiva delle società dall'altro lato. Non so se nella stanza c'è qualche idea del percentuale della parte contributiva delle persone fisiche nel budget dello Stato. Esatto, 60% dalle persone fisiche e 40% dalle società. Quindi quando si prepara la riforma fiscale per forza quegli elementi hanno una certa rilevanza. Il peso relativo delle imposte dirette, indirette e altre imposte anche hanno una rilevanza. E quindi a questo livello le imposte dirette, l'imposta sulle società per esempio in confronto all'IVA, anche l'imposta delle persone fisiche, è interessante di sapere che le imposte dirette portano quasi 60% anche al budget dello Stato, mentre l'IVA fa più o meno 30%. Anche dentro le imposte dirette per forza, è interessante di considerare la parte dell'imposta sulle società e la parte della withholding tax sugli stipendi. Ancora una volta siamo quasi a 60% sulla withholding tax sugli stipendi, mentre l'IRC, quindi l'imposta sul reddito federale e statale, fa 23% della parte contributiva al budget. Occorre anche sapere che il nostro imposta sul patrimonio, l'imposta sulla fortuna lussemburghese che tutti vogliono vedere in abolizione, rappresenta quasi 300 milioni al budget dello Stato. Quindi sono elementi di rilevanza quando si tratta di preparare un budget. Anche l'ultimo, l'ultimo anche interessante, per la prima volta in 2014, le curve di parte contributive dal settore bancario in confronto al settore delle soparfi si sono incrociate, quindi la parte contributiva delle soparfi è diventata più alta al budget in 2014 in confronto alla parte delle banche. Quindi è un elemento anche interessante da notare. L'elemento principale di attrattività a livello internazionale per forza il primo elemento è il tasso di imposta sulle società e qui si vede in sostanza che il tasso nominale dell'imposta sulle società in Lussemburgo è abbastanza sulla parte alta del confronto con altri Stati, anche con le piazze finanziarie concorrenti come Londra che attualmente ha 20% con un obiettivo 18%, per forza Dublino ha 12-50% e anche diversi paesi dell'est che sono piuttosto a 20% o anche di meno. Si vede ancora meglio qui nella corva della media del tasso di imposta nominale nell'Unione che si riduce sostanzialmente gli ultimi anni mentre il tasso nominale lussemburghese rimane a 30%, quindi l'elemento diretto di tasso nominale rimane altissimo nel confronto qui a livello lussemburghese, benché sappiamo tutti che a Lussemburgo c'è veramente un'ampia flessibilità, un'ampia diversità di sistemi, di esoneri adeguati in grado di poter offrire e di rispondere all'esigenza del business a molti lati e ci sarà ancora un esempio dopo nella conferenza con un nuovo veicolo regolamentare. Alcune misure che vengono già anticipate, c'è quella misura che è già stata evocata da Alberto sul libro di modificazione della participation exemption a questo livello, quindi un'anticipazione, un risultato della pressione internazionale, se posso dire, che viene anticipata normalmente dall'anno prossimo in Lussemburgo e anche con l'introduzione di una misura specifica di abuso di legge dentro la nostra PEX lussemburghese. Un altro esempio, il sistema di consolidamento fiscale in Lussemburgo che permette di compensare i ricavi positivi di un'entità lussemburghese con il ricavo eventualmente negativo di un'altra entità si faceva fino ad adesso soltanto in modo verticale con una madre lussemburghese. Questo è stato l'oggetto di una decisione da Corte di Giustizia a livello dell'Unione e poi il sistema lussemburghese è stato cambiato per permettere il consolidamento fiscale anche in modo orizzontale tra sorelle quando la madre non è eventualmente neanche lussemburghese. Vi risparmio questo cambiamento molto più tecnico dell'imposta sulla fortuna che gioca dall'anno scorso, salvo per segnalare ai banchieri e alle società di gestione che sono qui presenti, attenzione alla network tax 2015, la neutralizzazione della network tax 2015 non si può più fare sui risultati, sulle riserve al bilancio 2015, si deve fare sul bilancio 2014, sulle riserve che sono presenti al bilancio 2014, significa in sostanza per quelli che hanno già distribuito sulle riserve al bilancio 2014 all'inizio di 2015 ci sarà un problema per neutralizzare l'imposta del patrimonio 2015, almeno fino alla montare dell'eccesso dell'imposta patrimoniale 2015 in confronto a quello di 2014. Un elemento molto tecnico che è rimasto sotto interpretazione per diversi mesi in quest'anno e finalmente ci sono state due circolari emesse in novembre per chiarire il trattamento e farà, sono sicuro, qualche sorpresa per il mercato. L'elemento principale di cambiamento sull'imposta sulla fortuna, quell'imposta che abbiamo di 0,5% sugli attivi netti tassabili, per forza non quegli elementi che vengono esonerati come le partecipazioni eccetera della prex lussemburghese, la liquidità, i receivables e i finanziamenti che sono finanziati da fondi propri in sostanza, c'era una richiesta altissima per l'abolizione di quell'imposta a Lussemburgo dal mercato, la risposta attuale è di avere un'imposta degressiva, quindi fino a 500 milioni di attivi tassabili a questo punto si applica una soglia o un percentuale di 0,5% che è il percentuale che abbiamo comunque adesso e se la monta è superiore c'è la possibilità di avere un tasso del 0,05% di impostare sulla fortuna, quindi direi che la risposta può essere interessante per alcune banche o mega contribuenti o certi gruppi che portano miliardi di euro a Lussemburgo, miliardi di equity a Lussemburgo, ma salvo questi la risposta direi non risponde all'attesa del mercato, quindi c'è ancora molto di lobbying per sia abbassare quella soglia di 500 milioni o andare fino ad una abolizione graduale di quell'imposta. Si aggiunge a questo l'introduzione di un'imposta sulla fortuna minimale per sostituire l'imposta sul reddito che avevamo fino a quest'anno, l'IRC minimale, quindi avevamo un IRC minimale che poteva essere sia del 3.000 euro o di più dipendente della composizione del bilancio della società lussemburghese, quindi fino a attualmente 21.400 euro, quello è stato colpito da un attacco dalla Commissione europea come non compatibile con il regime della participation a livello europeo, quindi abbiamo dovuto cambiare e per cambiare in neutralità di budget è stato scelto d'introdurre diciamo più o meno lo stesso ma a livello di imposta sul patrimonio minimale che sarà sfortunamente un po' più alto come vedete con un minimale che può andare fino a 32.000 euro invece del sistema pregresso che andava fino al 20.000. sono quasi alla fine un elemento anche interessante per gli italiani e che abbiamo adesso lo scudo lussemburghese che viene introdotto quindi in un modo anche molto attrattivo per contribuenti lussemburghesi nel fatto che si applicherà con delle sensioni che sono del 10% ma non con nel sistema italiano tipo 2-4% all'inizio sul capitale stesso non dichiarato, qui sarà un elemento di penalizzazione di soltanto 10% della montagna dell'imposta, quindi è abbastanza interessante come sistema di regolarizzazione 10% se si fa in 2016, 20% se si fa in 2017 in sostanza quindi lo scudo lussemburghese apparisce anche molto molto strano di vedere che il testo dello scudo lussemburghese fa due paginette è veramente molto molto breve in confronto con lo scudo italiano, lo scudo del belgio che faceva diciamo un libro molto 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 pesante ad analizzare qui è molto breve, attenzione comunque anche a quelle condizioni di applicazione dello scudo perché c'è per forza l'imposta sulla parte amministrativa dell'imposta poi ci sono anche i settori più penali che possono anche includere diciamo elementi non dichiarati sugli stipendi e certi elementi che non verrebbero anche coperti da questo cambiamento. Direi con questo per accelerare il processo e permettere ai colleghi del consulting di fare l'intervento direi di concludere a suo punto con una sola parola che penso che siamo veramente ad uno scelto strategico per il lussemburgo di andare sulla vera riforma fiscale che si può fare in totale neutralità fiscale di budget, significherebbe di prendere qualche compensazione sia sulla non deducibilità di diverse spese societarie, di limitazione di ammortiamenti fiscali, di limitazione di perdite fiscali nel tempo sul sistema che abbiamo attualmente che prevede la possibilità di riportare le perdite sul futuro senza limitazione quindi qualche cambiamento di compensazione da certamente considerare se si va sull'ottica di neutralizzazione budgetaria totale mentre un scelto più aggressivo sarebbe un scelto più similare a quello che fu fatto dall'Irlanda al momento del 12,5% che significa invece di andare veramente con una scommessa sul futuro con l'incremento del business che potrebbe avvenire a lussemburgo da una riduzione significativa dell'imposta sulla riforma fiscale. Adesso penso che non ci siamo ancora sulla base degli ultimi argomenti che vediamo arrivare al livello delle autorità. Vi ringrazio. Grazie molto Jacques. Ingrid e Sergio, Mission Impossible, dovreste cercare di fare il più rapidamente possibile ma come avvocato e consulente sono sicuro nelle vostre doti e capacità di sintesi. Grazie. Buongiorno. L'anno scorso ho parlato inglese, è l'unica a parlare inglese, quest'anno mi sono messo all'italiano, mi scuso già per il mio italiano. Oggi volevo parlare delle novità nell'ambito delle fondi. Abbiamo tre topic. il primo è U6-5, la responsabilità del depositario, il secondo è la quarta direttiva AMEN e il terzo è una novità della settimana scorsa, è il RAIF. Non so se avete letto l'essenziale, però l'essenziale di ieri ha già parlato di questo nuovo tipo di fondo. La U6-5 ha introdotto alcuni cambiamenti, c'è un nuovo regime di responsabilità, però c'è anche un nuovo ruolo del depositario e c'è anche nuove condizioni di delega del depositario. Come siamo in ritardo, non faccio il dettaglio, però abbiamo tre dovere. Il dovere del monitoraggio, che adesso vale anche per le società di investimento e non solo per gli usciti contrattuali. Abbiamo un dovere di custodia, questo qui non è nuovo, però adesso abbiamo due sottodivisioni, che una è dedicata agli strumenti finanziari e l'altra è altre attività. Il dovere di custodia non è lo stesso in entrambi delle altre attività, perché per gli strumenti finanziari infatti possiamo parlare di custodia, però per le altre attività, nell'opinione, non è una custodia, è solo una verifica della proprietà sulla base di informazioni ricevute e allora alla fine non possiamo dire che è proprio una custodia. Il terzo dovere è il dovere di sorveglianza e di flussi di cassa. Questo dovere è totalmente nuovo e c'è molta domanda a proposito di questo dovere, perché c'è alcuni clienti che chiedono se il depositario deve anche accettare le transazioni o le istruzioni della management company e verificare tutto, tutto, tutto. e non sappiamo adesso l'importanza di questo controllo e c'è anche una possibilità di interpretazione flessibile. A livello della delega abbiamo anche nuove condizioni di delega a livello del depositario, però anche a livello del delegato. È un po' da sottolineare che non c'è nessuna delega di dovere di sorveglianza e di flussi di cassa e di dovere di sorveglianza. È solo una delega possibile per la custodia, però è necessaria una giustifica oggettiva per la delega e anche il depositario deve fare una due diligence nella selezione, nella nomina e anche un costante monitoraggio del delegato. A livello del delegato abbiamo anche nuove condizioni rigorose a livello della struttura e della competenza, della vigenza prudenziale, della revisione esterna, eccetera, eccetera. A livello della delega abbiamo anche un'altra condizione a proposito della protezione contro l'inservenza che implica azione a livello del depositario e anche azione a livello del delegato. A livello del depositario si deve verificare il sistema giuridico e la pratica applicabile al delegato, le condizioni finanziarie di esperienza e reputazione sul mercato del delegato, l'esistenza e l'efficienza della protezione a seconda della regolamentazione applicabile, però c'è anche una condizione per il delegato che non è europeo. Queste condizioni sono più o meno uguali nell'IFM, solo che le condizioni per il delegato non europeo non esistono per l'IFM. Le azioni che devono essere intraprese dal delegato e verificare il riconoscimento della segregazione con il sistema giuridico applicabile e anche il riconoscimento della non disponibilità di altività dell'USIS al creditore e del delegato. Penso che sono le due azioni più importanti da fare. La responsabilità è una strict liability, una responsabilità oggettiva del depositario. c'è un alliamento con i criteri di responsabilità dell'IFM, però a la differenza dell'IFM non c'è possibile di scaricare la responsabilità. Alla fine non c'è possibilità di scaricare contractualmente la responsabilità, solo un caso ben specifico che il depositario deve dimostrare che la perdita è legata a una cosa di forza maggiore. Non va veloce penso, però se tu le domande... A livello della quarta direttiva AML, abbiamo come obiettivo di complementare le recommandazioni del GAFI del 2012. I scopi di attività non sono molto cambiati e il componente chiave del customer due diligence non è cambiato anche. Abbiamo principali cambiamenti e ridefinire la valutazione dei rischi, la risk-based approach. Il regolamento della CSF del 2012 ha già anticipato la maggior parte delle raccomandazioni del GAFI del 2012, così non aspettiamo molto cambiamento a Lussemburgo a questo proposito. La valutazione dei rischi a livello europeo e nazionale è una cosa nuova e può essere molto utile per i soggetti obbligati perché vuol dire che a livello europeo la Commissione e anche a livello nazionale a Lussemburgo c'è una valutazione dei rischi pubblica. C'è anche un cambiamento che è molto importante che è il registro dei beneficiari effettivi che alla fine a Lussemburgo e anche in Europa tutte le entità legali avranno il loro beneficio effettivo identificato e registrato in un registro nazionale disponibile per le autorità però anche per le entità obbligate o quelle che non abbiamo un interesse. Così è un'informazione pubblica. C'è anche un cambiamento del campo di applicazione delle entità obbligate oltre il casino c'è anche i giochi online che sono nell'ambito della quarta direttiva Ebel. Un cambiamento molto importante è il crimine fiscale rientrato nella definizione di attività criminosa senza la direttiva e riguarda le tasse dirette e indirette. C'è anche dispensa per alcuni prodotti di moneta elettronica per prendere in considerazione nuovi metodi di pagamento. C'è una dispensa della maggior parte delle CDD dipendente di alcune condizioni per questi prodotti. C'è anche un regime dei paesi terzi. A livello europeo non abbiamo più una lista bianca delle paesi che non sono equivalenti però è sostituito da una dispensa attraverso la risk-based approach. Voilà il soggetto più interessante per me è la settimana scorsa era diposito un progetto di legge che introduce un nuovo tipo di fondo a Luxemburgo è un fondo non regolato che alla fine è più o meno come un CIF però non è sugetto alla surveillanza della CSSF e non è sugetto all'approbazione della CSSF. funziona come un CIF o può funzionare anche come una SICCAR quando è dedicato al capital rischio. Oggi non abbiamo una vista piena perché il progetto è appena depositato però normalmente puoi investire in qualsiasi strategia e in qualsiasi attivi. e c'è anche una possibilità di non diversificare il suo rischio a livello del proprio portofoglio alla differenza del CIF vuol dire che alla fine potete avere un prodotto non regolato con il capitale variabile senza diversificazione del portofoglio però che è regolato in maniera indiretta come con l'IFM perché per questo fondo il RAIF abbiamo bisogno di un'IFM il fatto che abbiamo un'IFM permette al RAIF di beneficiare di un passaporto europeo e anche permette di avere una certa protezione degli investitori il RAIF ha anche un regime fiscale efficiente è più o meno il stesso che il CIF però anche con la possibilità opzionale di optare per il regime fiscale della SICCAR quando dedicato solo al capital rischio Ingrid sta bravissima grazie anche e complimenti per la presentazione in italiano Sergio mi hai detto che puoi fare la tua presentazione in due minuti e in due ore se riesci a farla il più breve possibile grazie Ingrid mi ha lanciato una sfida ok dunque il tema di oggi l'ultimo tema è sulla MIFID dunque una normativa europea che ha il potenziale di cambiare in maniera significativa il modo in cui le banche le imprese di investimento lavorano in Europa purtroppo l'obiettivo principale non è quello di sostenere l'innovazione la modernità e lo sviluppo come dicevano i nostri invitati ma ad altri scopi questa normativa non si può parlare di questa normativa senza parlare prima del calendario inizialmente tutto era stato pensato per avere un'entrata in vigore il 3 gennaio 2017 questo come ben sapete c'è un intreccio politico normativo in questo momento tra Commissione, Parlamento Europeo e l'ESMA che dovrebbe vedere un rinvio di questa data a gennaio 2018 ciò non toglie che le condizioni che ha posto il Parlamento Europeo per poter accettare questo rinvio è di non ritardare tutta la parte relativa alle misure di secondo livello dunque dovremmo vedere a gennaio come era previsto inizialmente le misure di secondo livello previste dalla Commissione Europea allora non voglio entrare nei dettagli ma mi limiterò a evidenziare quali sono le sfide strategiche per le banche e per le imprese di investimento dunque dal punto di vista della governance delle imprese di investimento delle banche noi non ci aspettiamo dei grandi cambiamenti perché sono tante le normative che prima sono venute a regolamentare questo ambito qua magari tre cose velocemente gli organi di direttivi delle banche che dovranno comunque essere un po' rafforzati per poter assicurarsi che la normativa è stata integrata correttamente la politica di conflitto di interessi che oggi è molto molto al di sotto delle esigenze già spesso di Mifiduno e tutta la parte del monitoraggio del ruolo del compliance nelle banche allora la parte proprio interessante strategica avviene sulle misure di protezione dell'investitore questa è un'opportunità per le banche per le imprese di investimento di ripensare completamente il loro modello operativo se prendiamo ad esempio i quattro temi principali delle misure di protezione dell'investitore parliamo degli inducements la prima domanda che ci poniamo quando lavoriamo con una banca o con un'impresa di investimento è cosa fare con i clienti che oggi avete che sono clienti in esecuzione ma che ricevono in maniera non contrattuale delle raccomandazioni personali questo rappresenta circa 80% della clientela di una banca europea retail un po' meno di una banca privata siamo per la banca privata attorno ai 40 ai 60% della clientela che oggi ricevono una raccomandazione personale dunque un advice al di fuori di un contratto cosa che ovviamente non si può fare dunque la domanda che hanno oggi le banche che si pongono e che ci dobbiamo tutti porre è come rimediare questa situazione in maniera che sia accettabile dal punto di vista normativo ma anche dal punto di vista commerciale che proposte possiamo mettere in avanti a questi clienti che non necessariamente vogliono entrare in un mandato di advisory classico nemmeno vogliono restare in una situazione di execution only nella quale non riceverebbero nessuna raccomandazione personale seconda grande sfida strategica è di sapere che tipo di advisory vogliamo dare vogliamo dare advisory indipendente o vogliamo dare advisory non indipendente possiamo anche immaginare delle strutture di servizio ibride dove ci sia sia l'advisor indipendente che non indipendente poi si può capire come posizionare tutta l'attività di asset management all'interno della banca farla rimanere all'interno della banca cominciare a sviluppare architettura aperta la banca se stessa a comprare solo prodotti captive o aprirsi a una rete di prodotti esterni e l'ultimo punto sull'inducement fondamentale è come finanziare la ricerca la ricerca è fondamentale anche nell'ambito di ciò che abbiamo detto prima cioè senza ricerca oggi tutta una serie di imprese di società che erano magari start up 5-10 anni fa che oggi sono diventate piccole e medie imprese non riceveranno più finanziamento non riceveranno più finanziamento è fondamentale oggi per una banca per una impresa di investimento di trovare il modo di continuare ad ottenere questa ricerca e di continuare a produrla secondo un modello di business che è completamente diverso da quello di ieri altrimenti il flusso di capitale non arriverà più a questi attori abbiamo visto a che punto in alcuni parti sono importanti per l'economia seconda cosa enormi esigenze a livello di informazione di trasparenza queste esigenze sono chiare però il loro formato la maniera di comunicarle eccetera non è definito dalla normativa anche qua c'è una serie di sfide da rilevare dal punto di vista strategico su come meglio informare e eventualmente anche rivedere tutto il modello tariffario della banca o dell'impresa di investimento terza cosa esigenza molto noiosa lo so suitability appropriateness prima del 2007 quello non esisteva oggi esiste oggi c'è il carattere idoneo di ogni raccomandazione personale deve essere documentato anzi documentatissimo alcuni attori stanno cominciando a vederlo anche come un'opportunità cioè come si può aggiungere valore dando eventualmente una reportistica di suitability appropriateness ai propri clienti incluso eventualmente ai clienti professionali che possono essere piccole e medie imprese per fargli capire qual è il valore aggiunto del consiglio che ricevono dalla loro banca o dalla loro impresa di investimento l'ultima cosa è come aumentare la qualità aumentare la qualità oggi non è più uno slogan nel mondo bancario ma è una necessità se si vuole continuare a ricevere una forma di remunerazione che era molto classica l'inducement da parte dei prodotti terzi ma che diventerà sempre più difficile da ottenere da un punto di vista normativo se non si pensa a modi di migliorare la qualità del servizio al di là delle esigenze minime della normativa finalmente l'ultimo punto è quello della product governance questo è nuovissimo non c'era in Mifiduno ovviamente si tratta di correggere gli sbagli fatti nel 2007 2008 quando qualsiasi intermediario finanziario si inventava dei prodotti prodotti strutturati depositi strutturati nei quali non si capiva esattamente cosa c'era dentro che non erano lanciati nell'interesse della clientela erano lanciati solo nell'interesse della banca o dell'impresa di investimento questa esigenza vi obbliga a definire in anticipo prima di lanciare un prodotto vi obbliga a definire in anticipo quale sarà il mercato target di questo prodotto allora qua di nuovo bisogna essere un po' un po' furbo nel modo di implementare questa esigenza perché avere un mercato target troppo preciso vi toglierà delle opportunità di distribuzione averlo troppo ampio non vi darà la possibilità di escludere abbastanza chiaramente una fetta del mercato per cui questo tipo di prodotto non è idoneo dunque direi che questi quattro punti qua sono la chiave secondo noi del modo di implementare Mifid correttamente non solo da un punto di vista normativo ma anche da un punto di vista strategico e anche nell'interesse di alcuni attori essenziali nell'economia l'ultimo punto e sarò più veloce di te Ingrid perché ho finito con questa slide l'ultimo punto è sugli aspetti di mercato gli aspetti di mercato chiaramente vi invitano perché le esigenze sono molto più importanti che Mifid 1 vi invitano a riconsiderare tutte le attività di trading che fate su conto proprio cioè l'opportunità di mantenere questo trading su conto proprio e bilanciare i margini che fate su questa attività con i costi per essere in linea con la con la normativa non c'è nessun vantaggio a diventare un internalizzatore sistematico gli obblighi di trading comunque ci sono per tutto per tutti in particolare anche sui prodotti derivati il regime di trasparenza aumenta in maniera significativa dunque i costi di mettere in piedi questo regime di trasparenza sono importanti e c'è di nuovo la necessità di migliorare il modo in cui offrite la best execution ai vostri clienti gli ultimi due punti hanno a che fare con la reportistica tantissima reportistica questo probabilmente spiega il rinvio chiaramente nessuno è pronto per produrre una quantità così enorme di dati fino al livello della persona cioè dell'individuo che ha generato questa transazione dunque questi due punti qua transaction reporting reporting sui derivati sulle merci sono probabilmente la ragione per la quale c'è stato questo rinvio ecco qua spero che ero abbastanza sintetico ti meriti tutto l'applauso per la capacità di sintesi incredibile sono le 7.10 a questo punto ci sarebbe prevista una sessione di Q&A se siete d'accordo potremo magari spostarla sopra così abbiamo anche la possibilità di prendere un aperitivo a meno che ci sia qualche domanda immediata così riusciamo a prendere due piccioni come una fava quindi non vedo mani alzate lasciatemi ringraziare ancora una volta per la vostra cortese attenzione spero che l'incontro sia stato di vostro gradimento e quindi direi se volete possiamo ritrovarci tutti al pieno di sopra per un cocktail accompagnato chiaramente da vini italiane grazie ancora grazie grazie a tutti